Ciao a tutti, oggi vi proporrò una ricetta davvero sfiziosa e speciale che fa parte della tradizione sarda, le famosissime pizzette al taglio che personalmente amo alla follia. In tanti mi hanno chiesto questo video e quindi adesso è davvero con grandissimo onore e gioia che ora vi posso mostrare tutto il procedimento. Un impasto ultra idratato che permetterà alle pizzette una volta cotte di restare morbide ma croccanti allo stesso tempo, rustiche perché leggermente irregolari e gustosissime. Diciamo il buon cibo da strada sardo, si va in giro per negozi nel centro Cagliari ed ecco che ti assale una fame improvvisa, la soluzione veloce e ideale per me è sempre stata la pizzetta al taglio, ma le adoro veramente tantissimo. E visto che in questo periodo dobbiamo restare per forza a casa, allora ho pensato di unire questa mia voglia di mangiarle ancora una volta alle vostre richieste. Vi dico già che le dovete provare assolutamente. Io l'impasto lo farò con il bimbi ma si può tranquillamente fare o con un mestolo di legno e tanto olio di gomito oppure con una planetaria. Per cui nel boccale ho unito l'acqua tiepida a circa 30 gradi ecco, non di più mi raccomando, lo zucchero, il lievito di birra sbriciolato, ho mescolato bene, ho unito le due farine, quindi la manitoba e la 00, l'olio extravergine d'oliva, il sale e ho impastato, ho fatto impastare anzi per 5 minuti. Sopra il piano di lavoro versiamo un po' d'olio, ci trasferiamo l'impasto che dovrà proprio avere questa consistenza, vedete morbidissimo e appiccicoso. Aiutandoci con la spatolina e con le mani gli diamo qualche piega, mi raccomando resistete alla tentazione di aggiungere un altro po' di farina, perché altrimenti perdereste ovviamente questa idratazione, deve restare proprio così. Come lo vedete, lasciamo riposare per 30 minuti coperto a campana con la ciotola. Trascorso questo tempo, sempre con la spatolina e le mani unte leggermente con un po' di olio, creiamo altre pieghe portando sempre i lembi verso il centro e ripetiamo la stessa cosa, quindi sempre coperto a campana per 30 minuti. Trascorso anche quest'altro tempo, lo trasferiamo all'interno della ciotola, gli diamo che avevamo già unto con l'olio, gli diamo altre pieghe, così come vi sto mostrando, copriamo con pellicola trasparente con la coperta di lana e lasciamo lievitare in un luogo caldo per circa 6 ore. Trascorso questo tempo, l'impasto dovrà presentarsi così, con tutte queste belle bolle sopra. Prepariamo la lecarda del forno con un foglio di carta da forno unto con poco olio, ci ungiamo anche le mani e stendiamo l'impasto con la punta delle dita. Eccolo qui, ora copriamo con la pellicola trasparente e lasciamo lievitare ancora per altre due ore. Trascorso anche questo tempo, facciamo preriscaldare il forno, condiamo solo con il sugo, che io ho già preparato precedentemente, e inforniamo a 200 gradi per 15 minuti circa. Dopodiché togliamo fuori la teglia, aggiungiamo il filante per pizza tagliato a dadini e rinforniamo per altri 5-6 minuti, o comunque finché non si sarà tutto sciolto. Vi mostro un lato della pizza, ecco, per mostrarvi già che si vede da adesso appunto quanto è morbida. Che profumino favoloso ha rilasciato in tutta la casa, mamma mia che bontà! Ora con una rotellina a taglia pizza, la dovremo dividere in quattro parti. Ogni parte poi la condiremo a metà, con quello che più ci piace, ecco così come vi sto mostrando, e poi aiutandoci con due spatole rigide, diamo un colpo secco al centro e pieghiamo con decisione. Ecco la nostra prima pizzetta al taglio pronta! Chissà di chi sarà questa così cicciotosa, prenapponti come si dice in sardo, tutta trasbordante. Secondo voi? Facciamo la stessa identica cosa con le altre e voilà! Ma non sono meravigliose, provatele e sentirete quanto sono buone! Ho fatto giusto in tempo a fare questa ripresa finale e due foto, che poi appunto le pizzette sono sparite in un lampo, troppo troppo buone! Le preparerò nuovamente molto presto! Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, mettete le mani in pasta perché è veramente terapeutico, fa benissimo per tutto! Sia per la pancia che per l'umore! Vi abbraccio forte forte e vi rimando i prossimi video! Ciao! 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 Ciao!